Lei è Valentina, ha 29 anni, è una commessa e vive da sola a Piano Romano. È alta 168 centimetri, è autoironica all'80% delle volte, ha all'attivo tre relazioni finite che l'hanno resa un po' insicura. È molto empatica, curiosa ed è una sognatrice, anche se ora si nasconde sotto una scorza dura. Amo tre cose. Amo la fotografia, sono un'osservatrice, mi piace correre attenzione sulle piccole cose, sui dettagli e far vedere agli altri ciò che vedo io. Amo la natura, mi trasmette pace, serenità, sento proprio il bisogno di alleggerirmi un po' e prendermi una pausa solo per me. Amo fare le pulizie di notte. Prima di andare a dormire mi faccio le mie pulizie, mi rilassa, ascolto la musica e poi sto più serena. Odio l'insalata. È un alimento noioso. Poi non so perché, legato sempre alle diete, io sono un po' contraria alle diete. Sono una a cui piace mangiare, quindi perché devo mangiare l'insalata quando posso mangiare qualcos'altro di più gustoso? A volte sono troppo ingenua e mi fido di persone che non sono al massimo. In amore ho sempre fatto scelte sbagliate e quindi spero che adesso gli esperti mi aiutino. Lei è Asia, ha 28 anni, è un'impiegata e vive da sola a Torre dei Roveri. È alta 170 centimetri. È riservata all'85% delle volte, ma nonostante questo, nelle relazioni tende ad essere un po' comandina. Ha una sola storia importante finita alle spalle. È indipendente, una gran lavoratrice e nella vita non vuole accontentarsi. Amo tre cose. In prima cosa il mare. Sarà che è lontano da casa mia, ma mi dà un grande senso di libertà e vivere al mare sarebbe come vivere sempre in vacanza. Amo gli animali. Quelle persone sono poco espansiva, ma con loro posso essere me stessa e coccolarli e farmi coccolare. Amo andare in giro con i miei roller. Quando stacco dal lavoro mi rilassa, mi dà la giusta carica e mi fa sentire libera a stare all'aria aperta. Odio cucinare. Mi annoia, non amo seguire le ricette. Il massimo della mia cucina è l'affettato in busta e l'insalata confezionata. Spero di trovare una persona compatibile a me, dato che da sola mi scelgo solo persone che dopo 30 secondi mi fanno alzare gli occhi al cielo per la noia. Lei è Chiara, ha 38 anni e vive da sola a Novara. È alta 156 centimetri. Ama avere tutto sotto controllo il 90% delle volte. Ha all'attivo due storie finite. È precisa, solare ed è un'insegnante di scuola dell'infanzia. Amo tre cose. Amo cucinare dolci. È una cosa che mi rende felice, rende felici anche le persone che amo e che si rendono sempre disponibili a farmi da cavie. Amo avere il mio stile. Ahimè, devo ammettere che ho una stanza a casa mia dedicata soltanto a borse e scarpe. Credo di avere più di cento paia di scarpe. Amo prendermi cura di me. Penso che stare bene fisicamente ti faccia stare bene anche psicologicamente. Infatti in palestra vado anche per buttare fuori tutto lo stress. Odio il disordine. Devo sempre sistemare tutto perché penso che ordine fuori sia anche ordine dentro. Mi aspetto di trovare un uomo che mi renda finalmente serena perché è una cosa che forse non è mai successa fino a questo momento.